E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto dal titolo andremo a trovare il terzo pinguino giocattolo nascosto su Europa. Vi ricordo che ottenendo questi pinguini potremo riscattare le lettere di Micah Abram dalla lore, un bambino trasferitosi su Europa insieme a suo papà, entrambi scienziati ebrei. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e li attiverà la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Il pinguino di questa settimana si trova alle rovine del Vespro, entrati nella zona dobbiamo prima andare verso il Neoris dove troveremo un boss caduto, uccidendolo questo ci dropperà un canale rovente che ci servirà per trovare il giocattolo. A questo punto spostiamoci al centro, entrando nella struttura che porta al settore perduto subito dopo questa porta sulla destra troveremo un cumulo di ghiaccio a cui ci basterà sparare con il cannone per rivelare il nostro pinguino. Come al solito tornando al posto di Caronte e entrando nella stanza alla destra di Varix potremo poi lasciare il giocattolo sul tavolo in fondo a destra e ottenere la terza lettera di Maika. Qui il bambino racconta di essere solo a paggia da una settimana ma che non potendo mai uscire dal Vespro per vedere il clima esterno si sta annoiando. Tuttavia c'è una novità, Clovis Bray e il padre di Maika sono riusciti a creare i primi EXO, la cosa interessante è che il bambino è completamente affascinato da queste nuove creazioni che uniscono macchina e uomo. E in particolare ci racconta come sia uno dei pochi a pensarla così, essendo gli EXO temuti dalla maggior parte delle persone, forse perché visti come un abominio o semplicemente in quanto una novità. Un aspetto interessante che si può notare, anche e soprattutto raccogliendo i vari EXO morti in giro per il pianeta, è come nella creazione di questi esseri venga particolarmente curato l'aspetto psicologico. Lo stesso padre di Maika è uno psicologo, il suo compito all'età del bambino è proprio quello di testare l'umanità degli EXO. C'è quindi molto da scoprire riguardo alla storia di questo bambino e sinceramente sono molto curioso di sapere come è da finire. In ogni caso io spero che il video vi sia stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, detto era la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.